Oilalà, buon amico, buon attimo, buon al canto, com'è un alò, Marco? Dime tutto! E vedo che non sta andando benissimo in Francia, c'è pieno di scioperi, proteste e manifestazioni, va bene. Come diciamo noi con la siccità sui campi, notre bien, notre bien. Ciao a me, mi dispiace che il Paris Saint Germain andasse fuori dalla Champions, ma mi pare esagerato. Ah, non protestano poi il calcio. Ah, pari la riforma delle pensioni da 62-64 anni. Però, e fatti i casini dappertutto, i casinò passi partout. Sembrati gli italiani da una volta che scioperavano sempre. Come si dice sembrato in francese? Paris! Paris, les italiani da qua che scioperavano, eh? No, qua in Italia andiamo in pensione a 67 anni, si andiamo. Si, se nous allons, se nous allons. Navarra, due sono le cose. O te che un popo d'età cabrighi, oppure a noi altri italiani. Prima che sappiamo sentire, puoi farmi di tutto. Ma, Navarra, non so. Comunque vada, francesino, sai che ci sono. Se ti tocca dimetterti, sai che ti ospito in Italia qua Brigitte, tua moglie. Te te presto a casa, su a Cesuna. E su parla a Altopien, la maison dell'Altopien, tra Asiago e Trescheconcon. Cesuna. Senza altro. Dai, vieni qua, così, prossimo karaoke. Ti invita a Meloni con Salvini e ti fa cantare. Non ho l'età, non ho l'età. Aga tu capis. Ascolta, a proposito dell'età. Salutami tanto tua moglie, Marcon, sempre bellissima. Cioè, aga avrà anche l'età da nonna. Ma ha ancora un fisico, come si dice, un decoltetto invidiabile. Come si dice in Francia? La gran mère avec le gran père? Ah! Senza altro. Ciao, tartufon!